Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e nuovo episodio della serie di sopravvivenza in Minecraft Ciao, buon venerdì a tutti, buona bepana perché per almeno noi italiani e oggi, se non vado errato, è il giorno della Befana, ovvero il 6 gennaio, venerdì 6 gennaio quindi tanti auguri, spero abbiate delle calze piene di dolci e non di carbone perché il carbone è per quanto utile magari da buttare in stufa, insomma, ok, anche se è meglio non usarlo visto che inquina tantissimo, non importa, c'è anche il carbone da mangiare effettivamente, il carbone di solito viene dato ai bambini cattivi o alle persone cattive mentre i dolci a tutte le persone buone, belle, brave, dolci e dolciumi interessante questo abbinamento comunque, comunque, vi auguro di aver ricevuto tanti doni che sia una bellissima giornata in famiglia, anche questa e sinceramente riflettevo prima, ma la Befana ce l'abbiamo soltanto noi italiani barra noi veneti, o ce l'hanno un po' in tutto il mondo credo sia una cosa più italiana perché era una tradizione nostra no, brucia la vecchia era un'altra non ricordo, sinceramente, dopo mi informerò per conto mio va bene, bando alle ciance, ciance alle bande andiamo avanti con il nostro episodio di minecraft e come sapete tutti benissimo vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like, commentare e condividere non serve nemmeno più che ve lo dica invece no? ok, ok, forse è fastidioso da dirlo all'inizio del video lo pensate anche voi? lo metto un po' in mezzo, se me lo ricordano dopo rischio di dimenticarmelo va bene, va bene, va bene allora, allora, allora oggi cominciamo l'anno con un progettino piccolo ma prima vi faccio vedere un progettone grande che finalmente ho portato a compimento sempre in questo periodo qui che non registravo, ecco e si tratta dell'edificio che vedete laggiù il Madison Cube Garden ci posizioniamo tipo qua sopra a questo schermo gigante, ok il Madison Cube Garden anche questo viene da Futurama è l'ultimo edificio tra virgolette importante o comunque bello grande che volevo realizzare per il quartiere Futurama questo qui è il quartiere Futurama se ancora non lo conoscete ve lo dico io e purtroppo l'ho fatto di un blocco troppo a destra e questo mi dà fastidio ma non importa e ho fatto un errorino a calcolare le cose vabbè comunque fatto sta che è stato un incubo costruirlo e penso abbiate capito perché è un quadrato ok? un cubo più che un quadrato messo in maniera obliqua strana storta e quindi costruirlo è stato un vero incubo per questa ragione ho fatto anche tutto off camera e ho approfittato di questo periodo di magra di tempo eccetera comunque nei bucchi di tempo che avevo l'ho fatto e adesso ve lo faccio vedere anche un po' intorno aspettate mi allontano un pelo cioè vedete che è stranissima come costruzione il Madison Cube Garden qui ho allungato un pochino il costone di terra per così dire la punetta per farcelo aderire bene l'interno è così per adesso poi magari faccio gli spalti quelle zone nere che si vedono adesso vediamo insomma e no ah io vabbè mi sono fatto un po' male questo è l'ingresso non c'è ancora niente qua è l'ingresso da fare come vedete c'è la parte dei lavori sotto magari la tappero con questo pavimento tanto per cominciare e adesso faccio vedere anche l'interno dai visto che sono qui tanto il progettino di oggi è veloce veloce non ci vuole tanto è una cosa molto semplice giusto per iniziare l'anno vedete eccolo qui semplice e poi andrò avanti a sistemare cosa ha le tutte le cose bene da qui fatto questo adesso qui intorno il paesaggio possiamo un attimo sistemarlo forse però qualche altro piccolo edificio adesso vediamo perché non so se ne ho lo spazio stavo pensato tipo alla casetta anche del suicidio alla cabina del suicidio e qualcosa sempre di caratteristico e a tema Futurama ma di più piccolo e di semplice realizzazione da infilare in mezzo tra l'altro qui manca ancora la punta da infilare lì in mezzo potrei anche cominciare a pensare al ponte che volevo mettere da qui e lì molto bene molto bene ma il nostro progettino è molto 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 più easy in questo momento e va fatto da questa parte di qua lo so le feste sono passate voi avete già visto la miniatura magari anzi no in miniatura ci metto il Madison Cube Garden così non vi spoilerò la la costruzione in miniatura almeno allora andremo a costruire qui so che le feste sono quasi finite anzi sono finite con la Befana perché la Befana si porta via tutte le feste ma noi andiamo comunque a realizzare questa cosa inerente alle feste qua c'è un po' di neve che poi useremo dopo allora mi serve la mia pedelissima crafting table tac vieni qui perfetto e direi che possiamo cominciare allora abbiamo con noi legno di guarcia scura legno di mangrovia e legno labete è il mio preferito e ho preso direttamente stack così non ho avuto tempo e voglia di smistare le cose allora qua voglio lasciare un blocco uno uno e questo poi lo gonfiamo quindi da qui ci potrebbe stare metterlo qui facciamo due conti uno due qui facciamo lo spazio di uno mi servirà già questo poi allora scala viene fatto uno scala girata e uno qui ok in teoria ci siamo per la lunghezza ci sarebbe ancora spazio dietro sapete aio non volevo cadere si dai così è carino perché poi qua in realtà resterà così metterò un po' di terra qui questo potremmo smorzarlo un pochettino si si dai va bene va bene va bene mi servirebbe della terra ho della terra non ho della terra molto male prendiamo direttamente da qua poi dopo sistemeremo in seguito tac non serve prenderne chissà quanta allora la mettiamo la mettiamo qui per fixare questa parte anzi filare più che fixare filare rimettiamo tutto così poi dopo mi faccio io un po' di terraforming quando il progettino è finito allora qui è lo stesso modo mettiamo giù gli ultimi blocchi qui di ardesia profonda che ci sta molto bene guardate che bella che è tac perfetto adesso andiamo avanti questo lo scorce scorcecciamo lo scorcecciamo lo scorcecciamo eh prendiamo tronchi di abete facciamo un paio d'assi non serve troppo in realtà dopo mi serviranno anche gli stuzzichini quindi ne faccio un po' allora mettiamo uno ogni tanto mi si buggano eccoli là le texture forse perché shader e tante robe vabbè poi dopo si sistema tipo sì però sei fastidioso ok uno due e paparapapapapapam ok qua poi mettiamo anche le lastre facciamo anche un po' di lastre guarda allora mi servono un po' di tronchi di quercia scura per fare poi le lastre facciamo un paio di lastre giusto per e mi servono anche i cancelletti anzi mi servono prima delle botole di quercia scura due dovrebbero essere sufficienti e cancelletti me ne servono almeno uno da bette e poi e poi un po' di staccionate di quercia scura intanto facciamone così e andiamo avanti allora qui mettiamo uno la botola da qui e da qui tac scaffolding potrebbero essermi utili in effetti per salire comodamente buono qui invece mettiamo lastra blocco da bette qui e qui mettiamo gli occhiettini della nostra piccola rena si ma non ha l'occhio in testa ce l'ha di lato no ok pensavo fosse volato via la poi prendiamo anche questo di mangrovia per farci il nasino rosso la realizziamo il paico della nostra rena non con questo però devo usare l'altro dove sono devo farne ancora va bene facciamone ancora allora 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 cancelletti no basta fare con legno di corcia scura cancelletto scuro così adesso non riuscirò più a salire però può andare bene lo stesso perché io lo voglio aprire verso fuori mentre 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 con questi lo faccio tac faccio così e così me ne manca uno mi sto affidando troppo al crafting lì e poco ai crafting soliti cioè nel senso amanuensi come si deve cioè da buon minecrafter da buon pro player mi sta già facendo notte tra l'altro sto becco allora uno due qua mi manca una lastrina di abete porca vacca usando questo sistema si sbaglia troppo soprattutto con legno quando c'è tanta roba da che ha lo stesso crafting ok bene sta facendo notte però mi sa che non mi fa ancora andare a dormire vediamo tiriamo fuori il letto vediamo di fare un pisolino qui no devo aspettare sto a dormire comunque fastidio dall'alba in questo momento mettiamo codina qui dietro e adesso cominciamo a costruire la parte qui della slitta tanto avete già capito mi serve un altro po' di assi di mangrovia quindi facciamo uno due uno due blocco d'appoggio mettiamo questo qui davanti perfetto e lo stesso un altro blocco d'appoggio mettiamo qui dietro e questi li togliamo via ok vediamo di non cadere dentro che se no dopo non vengo più fuori perfetto e allora mi serve una scale d'avete scale scale d'avete da 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 assi d'avete facciamone un altro po' e facciamo delle scale quattro dovrebbero essere sufficienti da mettere così ecco parca la che mi sono incattato e così e lo stesso dal lato dico tac molto bene facciamo un altro paio che mi servono un po' più avanti dopo tac 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 perfetto ok allora adesso andiamo a fare anche delle botole sempre da bete stavo dimenticando facciamo delle botole eccole qua tac forse non sono sufficienti così allora le mettiamo qui tac così no sono riuscito a salire lo stesso e qui dietro per fare il posticino quindi dovrei fare una cosa di questo genere ah cavolo ne è rimasta una sola mettiamo un blocco d'appoggio e mettiamola qui ah c'era un enderman eh maledictus e facciamo così e così perfetto questo lo togliamo eccolo lì maledictus eh da 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 ok ok stiamo messi piuttosto bene eh lastre 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 da lette tatac tatac eh qui poi dopo non riesco se non faccio così non mi ci stanno le cose se non vado errato quindi mi servirà un'altra lastrina eh da mettere dentro papapapam tac devo fare la la base qua tac dopo va messo questo no così no non mi piace è troppo in basso bene perché se 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 così ha più senso già già viene meglio tra l'altro sotto qui non si vede più più o meno si vede non si vede allora dai caviamolo via e mettiamolo più alto così giusto per tanto qui viene messa la schulca rossa che ho preso quindi tac la togliamo e ce la mettiamo dentro tac dove sei oh questa ok perfetto tac ormai l'abbiamo fatto ragazzi ci siamo cancelletto cancelletto eccolo qui adesso così gli da un senso che questa sia attaccata in qualche maniera e tocco finale di 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 cartelli però mi serve dell'altro legno di mangrovia facciamo dei cartelli cartelli porca vacche mi sto papapapapinando porchi pig tac mi manca ovviamente un cartello che fastidio il video sta diventando un po' lunghino forse tac giusto per eccolo qui mettiamo l'ultimo cartello cartello così e abbiamo realizzato la nostra piccola slitta tac questo lo togliamo e recuperiamo qui le nostre cose le nostre shulker perché ho dei semi chi lo sa chi lo sa e li ho di nuovo via 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 sciapattume pattume quanto pattume che ho sempre in giro e tac questo tolgo via e l'unica cosa che mi manca è mettere ma si dai ormai l'episodio è lungo lo facciamo lungo uguale è neve neve no c'era una canzone con neve na 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 neve o ricordo male io mettiamo un po' di neve così soprattutto anche là sotto e papapapapam un po' di strati non facciamoci non lesiniamo sulla neve e anche quest'anno non ho visto qui dove abito io ecco questo ne ho vista tantissime montagne ed è stato molto molto bello molto molto freddo ma quel freddo bello che fa piacere buono 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 allontaniamoci un po' diamo un'occhiata ma ho la lelitra no non ho lelitra io sto per buttarmi a capofitto ogni tanto ok aio beh dai è carino è venuto carino ragazzi per questo video per questo episodio è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione commentate condividete iscrivetevi al canale se non lo avete fatto noi ci vediamo in un prossimo video in un prossimo episodio della serie di sopravvivenza in minecraft ciao ciao